Sangue lungo la E45 nei pressi di Sansepolcro Nord all'altezza di Madonnuccia. Due donne hanno perso la vita, un uomo è rimasto gravemente ferito. L'incidente mortale è avvenuto lungo la carreggiata sud della E45 in un punto dove si stanno svolgendo dei lavori stradali e per questo c'è un cambio di corsia, un restringimento di carreggiata. L'auto con a bordo le tre persone si è schiantata contro il New Jersey centrale che separa le due corsie di marcia. Un impatto fatale per Maria Grazia Massi di 76 anni Tifernate e Maria Pigliapoco di 77 anni, moglie dell'uomo che si trovava alla guida Natale Colombo, originario di Roma ma residente a città di Castello, trasportato con il Pegaso della regione toscana alle scotte di Siena. La E45 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore sul posto oltre ai mezzi del 118 due squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.